Di Battista, prego, ne ha facoltà. Presidente, augurandole anche a lei buone vacanze, sappiamo che anche per lei sono stati mesi molto duri, anche lei è stata catapultata in una realtà molto complessa, per cui davvero le auguriamo buon lavoro al rientro a settembre. Presidente, certo è brutto augurare a noi buone vacanze presentando un ulteriore decreto legge da parte del Governo. Lei ha parlato in quel discorso inaugurale di Casa della Buona Politica e noi l'abbiamo applaudita e ci crediamo ancora che questo Parlamento possa diventare la Casa della Buona Politica, ma occorre che lavori il Parlamento, per la Costituzione dice questo, che l'attività legislativa appartiene al Parlamento. Le ricordo, ahimè, e penso che anche lei sarà molto, molto, molto dispiaciuta, che in questi primi sei mesi il Parlamento non ha approvato nessuna legge ed iniziativa parlamentare. E questa è una vergogna e una violazione della Costituzione italiana. Per qualcuno la più bella del mondo. Buone vacanze. Onorevole Di Battista, lei sa che c'è l'impegno mio e di questa Assemblea per riformare il regolamento. La Giunta per il regolamento sta lavorando su questo e lei sa anche che le leggi ed iniziative popolari sono all'attenzione della Giunta e del Comitato, così come sono all'attenzione tutti gli altri provvedimenti che porteranno alla centralità del Parlamento. Quindi la vorrei rassicurare che stiamo molto focalizzati su questo tema. Grazie.